La contessa Jeanne Duvary Mi raccomando, non guardate il re negli occhi Sarebbe visto dalla corte come un invito Che sfrontatezza Ecco a voi, Jeanne Duvary De San Angelo Non pensate sia il momento di cambiare vita? Per andare dove? Il Conte di Barrivole che vi presenti il re Il primo ministro non tollera che permetti a una cortigiana di entrare nel vostro entourage Quella giovane donna è il mio entourage Padre, siamo lo zimbello di Versailles per la vostra intemperanza Io vi amo Contiamo tutti su di voi perché quella miserabile donna venga cacciata da corti Il re ha altre amanti State per scoprire Il lato oscuro del re Siete in grave pericolo, madame Radio Italia Radio Ufficiale Questo film aderisce alla promozione Cinema Revolution del Ministero della Cultura